Un piano sanitario e di sicurezza per rimettere in moto e in piedi i mercati rionali è a quanto sta lavorando il presidente regionale dell'Amba, l'Associazione Nazionale dei Venditori Ambulanti Ciro Pietro Fesa, che questa mattina ha incontrato in maniera informale una rappresentanza dei venditori dell'area mercatale di Torrione in via Pietro del Pezzo. L'Amba sta lavorando insieme a Lanci per redigere un codice di autorregolamentazione che consentirà ai venditori di poter riaprire le aree mercatali. Si punta all'11-18 maggio. Stiamo aspettando che si adottino delle misure per poter riaprire in sicurezza i mercati e quindi poter ripartire senza avere più problemi. nel mantenere anche distanze di sicurezza per i clienti e dando maggiore sicurezza anche agli operatori che verranno ad aprire. Noi stiamo elaborando un piano sanitario e un piano di sicurezza che a breve dovrebbe essere inviato alla regione. Quindi sicuramente sarà approvato anche da Lanci Campania e verrà poi divulgato a tutti i comuni e a tutti gli operatori. Ma diciamo che in tutta la Campania, perché non dobbiamo pensare solo a quest'area, in tutta la Campania sono 30.000 operatori che aspettano di poter ritornare al proprio lavoro. Ovviamente il piano che noi stiamo per presentare a Lanci e quindi l'accordo che poi prenderemo non riguarda solo i mercati, ma anche manifestazioni, fiere, sacre, diamo delle linee guida per delle misure di sicurezza. Stiamo iniziando a dialogare con gli operatori per fargli capire le misure che dovranno adottare per la riapertura e quindi tutte le misure da mettere in campo per stare in sicurezza, sia loro sia i clienti. Le date potrebbero essere l'11 maggio o il 18 maggio. Probabilmente se si arriverà anche all'11 maggio si ripartirà solo con il settore alimentare per verificare la tenuta delle misure che noi proporremo alle amministrazioni.